Tu sei, che cosa c'è tu da me, che cosa vuoi più da me, tu hai quel graffio al cuore che anch'io dolcemente vorrei, oh, oh, vorrei morire. Sulle labba rosse che hai, vorrei sentire, il tuo segno segnersi poi poi, dove due piccoli volcani, i certini sotto le mie mani, puoi scivolare poi sul pedino quello dolce che hai. E' un incontro d'animeo, la notte sembra perfetta, per consumare la vita io e te, c'è bisogno d'amore, sai, che non aspetta. E' un'eccazione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché stiamo fuoco nel fondo, ormai, ormai, bruciamo in fretta ma non è. E' un incontro d'animeo, ragazzi, ciao! Ciao, bello, bello, bello. E' un incontro d'animeo, la notte sembra perfetta, per consumare la vita io e te. C'è bisogno d'amore, sai, che non aspetta, che un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita.